Ehi là, ciao a tutti, grazie di cuore di essere qui su L'Inforioniverso, un abbraccio da parte mia e spero che l'estate sia clemente con voi e non vi state sciogliendola fuori da qualche parte. Detto questo, io invece ho appena realizzato, ora guardandomi, che ho una maglietta grigia, quindi a un certo punto alzerò il braccio e sarò un lago sotto, bravo Adrian, però ei, avevo una maglietta di One Punch Man, quindi ero soddisfatto e non ci ho pensato. Per chi di voi non ha visto il video scorso, sono in una location diversa perché sono in trasferta, al momento sono a Milano per lavorare a un progetto che al momento è segreto e come vi dicevo la volta scorsa non sono solo perché c'è un cavallo gigantesco dietro di me che l'ho chiamato, ho chiamato Lollo e ogni tanto mi susurra cose. La volta scorsa invece non mi ha sussurrato niente particolare, ma alla fine del video mi ha detto sono simpatici, non ucciderli, quindi penso che vi voglia bene e noi siamo qui non per parlare di cavalli, ma per continuare a parlare della missione Perseverance e in particolare della giunta di dimostratore demo tecnologico che è l'elicottero Ingenuity. Ora, la volta scorsa aveva anticipato un po' che sarebbe stata presente questa giunta e che avrebbe dimostrato la possibilità di volare nell'atmosfera marziana. Oggi approfondiamo un po', prima di tutto perché è difficile volare nell'atmosfera marziana. Perché è molto, molto, molto più rara è fatta rispetto a quella terrestre. Per volare sulla Terra l'utilità dell'atmosfera è che hai qualcosa contro cui muoverti e puoi sollevarti con una dinamica di controspinte, mentre su Marte la stessa cosa la puoi fare ma devi muovere molto più velocemente le tue eliche. Infatti questo piccolo aggeggio meraviglioso tecnologico che è l'elicottero Ingenuity riesce a muovere le sue eliche a circa 2700, tra 2700 e 3000 rotazioni per singolo minuto, che è molto più di quanto simili droni per esempio fanno sulla Terra. Non solo, ma pesa pochissimo. Tutto quanto insieme pesa circa 1,8 kg e buona parte è soltanto la parte centrale che è il corpo e le eliche. Le eliche sono state fatte in fibra di carbonio che è super leggera, sono grandi circa 1,1-1,2 metri più o meno da una parte all'altra, ha quattro gambe, piccolo pannello solare in cima, antenna e una camera e pochi altri sensori. È molto molto semplice, non ha un obiettivo scientifico particolare, deve dimostrare di poter volare nell'atmosfera marziana. Lo hanno già testato sulla Terra, lo hanno messo in un'enorme stanzone dove hanno tolto abbastanza aria da avere la stessa densità dell'aria marziana, legandolo poi a un filo, tirandolo per simulare poi la gravità marziana e ha funzionato. Sulla Terra quantomeno, quindi sembra possa funzionare, possa essere successo. Dobbiamo assicurarci che funziona anche su Marte. Sarà guidato dall'intelligenza artificiale propria, quindi non sarà possibile guidarlo dalla Terra perché la distanza è talmente grande che anche la velocità della luce e il ritardo inizia a essere anche decine di minuti. Quindi l'alternativa è stata appunto programmarlo in modo che possa sapere di suo cosa fa. Il rover si lo porta sotto la pancia, quando arriverà su Marte inizialmente troverà una zona adatta, poi si stacca da sotto la pancia, apre le gambe e cade per terra, il rover passa sopra sperando di non calpestarlo, se ne va e il piccolo elicottero Ingenuity rimane lì pronto per il suo volo. Dovrebbe decolare alzandosi di circa 5 metri e potendo volare per circa 300 metri, più o meno per 90 secondi. Questo sarà il tipico volo e ne fa, se tutto va bene, l'arco di 30 giorni dovrebbe farne 5 di dimostrazione, per far vedere che è possibile utilizzarlo. Se riescono a farlo funzionare 5 volte, tutte le volte dimostrando che possono volare, possono riatterrare in sicurezza, riprendere immagini, sarà un successo. E lì finisce più o meno la sua missione. In realtà probabilmente se funziona continuerà e servirà per dare una mano a Perseverance perché può guardare intorno al rover facendogli vedere quali sono gli ostacoli da sorpassare, quale potrebbe essere la strada migliore per continuare ad andare verso il sito che gli interessa. Quindi da questo punto di vista avere un elicottero che ti mostra la zona dall'alto sarebbe molto vantaggioso. Però in futuro l'obiettivo è fare cose molto più ambiziosi di così. Perché su Marte ci sono un sacco di caverne che non sono accessibili a esploratori come Curiosity oppure Perseverance, che sono rover su ruote ed è molto difficile portarli lì. Ci sono state soluzioni proposte in passato ma ognuna con delle sfide molto difficili per conto suo. La cosa più facile però sarebbe scendere con un elicottero simile dentro le caverne. Sono caverne spesso larghe anche decine di metri almeno fino a chilometri quindi puoi trovare il tipo che ti serve e puoi scendere all'interno, fotografare tutto quello che c'è, riprendere magari fare una scansione con laser per avere una mappa 3D e con altri strumenti come spettrometri puoi analizzare direttamente a distanza le rocce presenti lì. E c'è una buona possibilità che lontano dalle radiazioni esterne in queste caverne sulla superficie di Marte possano essere rimaste più tracce della presenza di vita passata o magari ancora là dentro, lontano appunto delle radiazioni, la vita continua. Per arrivare però a questi elicotteri che scendono dentro le caverne su Marte dobbiamo prima dimostrare che siamo in grado di farlo. Per questo è così ambizioso come progetto. Inizialmente la NASA era molto scettica che si poteva fare, gli scienziati ancora di più perché dicevano che era un po' uno spreco perché non c'erano strumenti adatti per un peso così piccolo e preferivano magari usare quel peso per altri strumenti da aggiungere al rover ma alla fine JPL, il laboratorio che costruisce Perseverance, quando la NASA gli ha detto che non può fare parte questo elicottero del piano scientifico della missione hanno detto va bene lo facciamo però per conto nostro, aggiunto alla missione e quindi in cooperazione con la NASA come dimostrazione tecnologica da parte del JPL. Quindi è il Jet Proportion Laboratory che vuole dimostrare che questo si può fare. E a capo di questo progetto c'è una donna meravigliosa che si chiama Min Yang, Min Yang, non so mai come si pronuncia, è di origine, la sua famiglia è di origine dalla Birmania. Lei in realtà è nata nei Stati Uniti, poi è tornata in Birmania per un po' e poi è ritornata da grande, passando in realtà per il Regno Unito, ha un curriculum meraviglioso. Sua madre era la prima in Birmania ad avere un dottorato in matematica, collabora da sempre a tante missioni spaziali e anche se è molto giovane ha un curriculum della Madonna e la cosa più affascinante è che lei a capo di questa missione dall'inizio ha spinto per farlo quanto più ambizioso si poteva con una dimostrazione scientifica. Quindi tutta la stima del mondo, a ridimostrazione tra l'altro che per quanto le missioni possono sembrare più o meno simili eccetera, periodicamente si fanno cose di un ambizioso pazzesco e che possono trasformare il modo dell'esplorazione spaziale futura. Domani parte e quindi sarò live per voi per seguire tutto quanto. Ci vediamo in live, sotto trovate gli orari, sotto trovate il link e tutto quanto. Quindi non perdetevi il lancio, sarà con un Atlas V della United Launch Alliance con una delle missioni, come vi dicevo, più ambiziosi di sempre. Se volete sapere di più su Perseverance trovate il video che ho fatto la volta scorsa invece questa volta abbiamo parlato di Ingenuity e ci resta un altro video da fare più in là in autunno per conoscere meglio la zona di atterraggio che sarà Iesero. Iesero? Iesero. Te vuoi imparare un po' di croato? È il nome di... che è la parola? Lago per il croato. Aesero? Aesero? Ci vediamo presto, abbraccio forte. Continuate ad essere meravigliosi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.